Compatti, propositivi, senza campanilismi o differenziazioni politiche per salvare il territorio provinciale di Teramo dalla catastrofe economica e sociale. È stato questo il MUD che ha animato l'Assemblea dei Sindaci Teramani, riunitasi per la prima volta in presenza dopo il lockdown nella sala consigliare del Parco della Scienza. Chiamati a raccolta dal Presidente della Provincia, Diego di Bonaventura, che ha a loro sottoposto un piano strategico comune. Rilanciare la domanda interna verso agricoltura e turismo, armonizzare le disposizioni comunali, monitorare i provvedimenti di regione e governo ed essere pronti a segnalare, con spirito di collaborazione, incongruità e inefficienze. Intercettare finanziamenti attraverso una progettualità che avrà la forza dell'intero territorio. Come riparte questa provincia, come riparte questa Italia, perché è un'emergenza senza predecedenti, lo dicevo dal 15 marzo quando qualcuno mi prendeva per cinico, perché dicevo sono preoccupato in parallelo sia dell'emergenza sanitaria e di quello che creerà l'emergenza sanitaria, la più grossa emergenza economica proprio mai avuta in Italia e nella nostra provincia. Oggi parliamo di un documento, sono convinto che l'intelligenza dei sindaci porterà a condividere oppure a parlare su un documento che già è pronto. Non è il momento di contrapporsi, io già stigmatizzo ogni tanto qualche uscita, però è il gioco delle parti che adesso non ci può stare. In considerazione poi della specificità del territorio terramano, che rappresenta oltre il 60% dell'intero turismo regionale, la provincia di Teramo e tutti i comuni congiuntamente hanno espresso l'intenzione di chiedere una linea di finanziamento corposo alla regione Abruzzo. Intanto il comune di Giulianova si appressa a salvare una stagione turistica sulla quale però non si hanno ancora certezze. Sindaco Giulianova traina tutta la provincia di Teramo a livello turistico. Come sarà quest'estate? Sicuramente sarà un'estate diversa, però quello che abbiamo detto anche in regione lunedì sarà un'estate che non possiamo buttare all'aria. Il nostro comparto turistico ricettivo è tra i più importanti che ci sono in regione Abruzzo. Ricordo che Giulianova ha la maggiore capacità ricettiva dell'intera regione e quindi dobbiamo studiare una soluzione che possa andare bene sia a quel comparto sia a tutte le problematiche legate al Covid-19. Vogliamo in sicurezza ripartire ma dobbiamo assolutamente muoverci. La stagione è già iniziata e noi linee guida ben precise ancora non ne abbiamo. Grande solidarietà è stata espressa dall'Assemblea al Sindaco di Atri Pier Giorgio Ferretti per il ruolo prezioso che ha svolto l'ospedale San Salvatore nella cura del Covid-19. La concentrazione mia e di tutta la comunità di Atri che si è stretta in questi ultimi mesi attorno al suo presidio ospedaliero adesso ecco l'importanza di tornare alle operazioni ordinarie. Questo dovrebbe avvenire tra il 18 e il 25 di maggio. Sono già stati avviati i lavori per la riconversione del presidio, i lavori in muratura. Adesso nel corso di questo fine settimana, al più della prossima, una maxisanificazione perché comunque quel presidio ospedaliero non è solamente un presidio sanitario ma ha dato dimostrazione di essere anche una fortezza sotto il profilo della sicurezza. L'Assemblea dei Sindaci Terramani, la prima post-Covid, è stata dedicata a Dalmazio di Dalmazio per tutti italo, scomparso dopo una lunga malattia. Di Dalmazio nella sua vita è stato amministratore provinciale, più volte assessore al turismo e alla cultura e sindaco di Civitella del Tronto.